ciao a tutti oggi prepareremo le carote in agrodolce il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono carote tagliate a rondelle acqua sale burro zucchero aceto di vino bianco salvia sale e pepe diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua un cucchiaino di sale posizionare il cestello con le carote e le facciamo cuocere per 17 minuti 100 gradi velocità 2 svuotare il boccale togliere le carote dal cestello e metterle all'interno del boccale adesso aggiungere alle carote il burro ed azionare il bimbi per tre minuti 100 gradi anti orario velocità soft aggiungere l'aceto lo zucchero lo zucchero il sale il pepe la salvia ed azionare il bimbi per cinque minuti 100 gradi anti orario velocità soft senza misurino le carote sono pronte serviamole carote in agrodolce grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti